Oltre 4.000 visitatori che hanno assistito alla rappresentazione del presepe vivente nel piazzale sottostante l'amministrazione provinciale di Frosinone, illuminato con fiaccole e luci che hanno fatto risaltare le quattro scene essenziali, le profezie, l'annunciazione, i re magi e la natività nella capanna di Betlemme. Organizzato dalla Proloquo e dal Comune di Frosinone, in collaborazione con la Diocesi di Frosinone, con l'apporto dei volontari del Comitato Madonna di Fatima della Contrada Cervona, il presepe vivente ha visto il coinvolgimento di circa 150 personaggi all'interno di un villaggio ricreato per l'occasione dagli studenti del liceo artistico. Particolarmente riuscite le sezioni relative ai dialoghi, con le voci, inclusa quella del narratore e dell'intera rappresentazione, registrate presso il CREA al Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva del Conservatorio Refice di Frosinone. Don Giuseppe, parroco di Santa Maria, ha sottolineato come la povertà del bambinello costituisca il vero paradosso della grandezza della missione del Cristo, unico figlio di Dio. È intervenuto infine anche il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, che ha ricordato come il capoluogo ha costruito in questi anni una forte immagine identitaria, scoprendo una vocazione culturale, anche in occasione delle rievocazioni religiose, che riescono a coagulare il sentimento di coesione di una comunità con il proprio territorio.